Nuova luce per il refettorio e chiostro del santuario del Beato Sante, che virata alla boa dell'ottavo centenario del luogo di culto fra le colline di Monbaroccio, vede completata l'opera di restauro richiesta dalla comunità dei frati francescani minori e dell'associazione Il Sole nel Cuore di Damiano Bartocetti, richiesta accolta dallo stanziamento di 200 mila euro della regione Marche. Finalmente possiamo presentare questo luogo restaurato, il refettorio del convento del Beato Sante. È importante questo luogo. È importante perché è uno dei luoghi della vita comune dei frati. Il refettorio è dove si consumano i pasti, cioè si mette insieme quella che è la fatica, il lavoro di ognuno e viene condiviso nella fraternità. E poi questo luogo è anche importante perché i frati non soltanto condividevano l'elemento materiale, il mangiare, ma anche la parola di Dio. Se voi notate in fondo al refettorio c'è un cartiglio dove c'è scritto Silenzium. Si mangiava in silenzio e si ascoltava la parola di Dio. Ecco, questo luogo così importante e significativo, anche se adesso un po' sono cambiate le cose dal momento che i frati non sono più tanti come una volta e noi lo siamo soltanto saltuariamente, però questo luogo conserva tutta la sua importanza nello stile conventuale e nella vita della nostra fraternità. Oggi un grande motivo di soddisfazione e di orgoglio ridare alla fruizione di tutto il popolo di Dio che verrà in questo convento del refettorio restaurato grazie al contributo della Regione Marche. Un grazie particolare all'assessore Francesco Baldelli. La Regione non poteva rimanere indifferente alla valorizzazione del Santuario del Beato Sante nell'ottocentesimo anniversario della Fondazione che ha un significato particolare. Non solo il recupero del chiostro, il recupero del refettorio, il recupero di alcuni altari della chiesa di questo santuario, ma sottolinea l'interesse verso i borghi delle Marche da parte della nostra Regione, ma anche la valorizzazione dell'identità attorno ai quali le nostre comunità si sono formate. Ecco il significato di questo investimento di 200 mila euro della Regione Marche per la valorizzazione anche non solo di quei luoghi cari ai fedeli della nostra Regione, della nostra città, ma anche quei luoghi tanto cari ai turisti che vengono a visitare in ogni periodo dell'anno una Regione ancora tutta da scoprire. L'intervento ha consistito nel ripulire tutti gli stalli in legno del refettorio, che erano stati tutti quanti ricoperti da uno strato di smalto e quindi la difficoltà, tra virgolette, è stata quella di togliere tutti questi strati di colore date nel tempo per ritrovare il colore originale. Nel 1223 San Francesco ordinò la costruzione di questo convento con una chiesetta e oggi ci troviamo qui, in questa bellissima giornata, ad interventi che vanno a migliorare questo meraviglioso santuario, partendo dal refettorio, continuando per la chiesa con il recupero degli atari ligni, passando per il campanile nella sua maestosità, per finire poi nel chiostro nel recupero di quelle che sono le luci e delle vetrate, in modo tale da erano raccoglienti un ambiente aperto non solo naturalmente al turista, ma anche alle scuole e a tutti i percorsi di conferenze. Grazie a tutti.